Avete mai provato a fare delle polpette con i carciofi? Noi ne andiamo matti! Queste sono buonissime e si fanno con pochissimi ingredienti. Partiamo facendo cuocere per bene i carciofi, con l'acqua, il sale e l'olio. Una volta cotti, eliminiamo l'acqua di cottura e schiacciamoli leggermente con il cucchiaio. Condiamo con l'uovo, l'aleo tritato, il prezzemolo, un pizzico di pepe e la farina. Mescoliamo il tutto formando un composto omogeneo e non troppo compatto. Friggiamo le nostre polpette in olio di semi bollente e aiutandoci con due cucchiaini. Doriamo per bene da entrambi i lati e scoliamole su un foglio di carta assorbente. Provatele! Sono sicura che piaceranno, ma proprio a tutti!